Ha pubblicato su Facebook il video di un uomo di colore che mette a segno un furto nel suo locale immortalato da una telecamera di sicurezza. Un filmato accompagnato da un lungo ed ironico sfogo nei confronti dei cittadini stranieri. Un vero e proprio polverone social si è scatenato a seguito di un post pubblicato dal titolare di un ristorante di Lecce finito nel mirino di un ladro dalla pelle scura. Nel video, girato nel primo pomeriggio di ieri e della durata di circa un minuto e mezzo, è possibile vedere un uomo che dopo aver sostato qualche secondo davanti al bancone comincia ad armeggiare con una borsa approfittando dell'assenza di persone intorno a lui e ignaro di essere ripreso da una telecamera. Il colpo, in base a quanto reso noto, ha permesso al ladro di portare via l'incasso del locale contenuto in un portafoglio e destinato al pagamento di fornitori e dipendenti. Fino a qui la cronaca dell'accaduto, ma il titolare del locale non si è limitato a pubblicare il filmato del furto, ma ha aggiunto un lungo post nei confronti del migrante, definito ironicamente preziosa risorsa, lasciandosi andare anche ad alcuni giudizi personali sui cittadini stranieri che arrivano in Italia, facendo riferimenti anche a quelli che raggiungono le nostre coste a bordo dei barconi. Parole che hanno inevitabilmente scatenato una lunga serie di risposte, molte delle quali indignate, soprattutto dopo la tragedia di Crotone di pochi giorni fa, in cui 70 migranti hanno perso la vita in mare. L'uomo ci ha anche tenuto a specificare di non essere razzista, ma a giudicare dai commenti pubblicati sotto il post. In pochi hanno creduto alla sua versione.